Buongiorno da Edo, allora prima di venire interrotto ieri stavo cercando di raccontare quella che è la notizia del giorno, almeno in Italia, cioè il presunto attacco informatico all'agenzia delle entrate. In realtà, al di là di quello che scrivono i giornali spesso in modo abbastanza confuso, sbagliando anche le parole, tutto un casino, la situazione non è chiara. Intanto, sia Sogei che l'agenzia delle entrate hanno, con un comunicato, smentito di aver subito un attacco informatico, quindi men che meno una sfiltrazione di dati. E poi la stessa Lockbit, contattata da Red Hot Cyber, che è un blog, una rivista italiana sulla cyber security, ha affermato di non essere direttamente responsabile o coinvolta in questo fatto, antes di non saperne praticamente niente, e che probabilmente si tratta dell'opera di un affiliato. Allora, per mettere in contesto queste informazioni, dobbiamo intanto sapere che cos'è un ransomware, che deriva dalla parola appunto ransom, che significa riscatto. Quindi il ransomware è un software che ha come finalità quella di bloccare, impedire l'accesso a dei dati di un'azienda, per poi richiederne un pagamento e sbloccare questo accesso. Questo blocco viene fatto attraverso criptografia, quindi i dati vengono criptati, e il pagamento di questo riscatto deve avvenire in una criptovaluta, tipicamente in Bitcoin o in Monero, nel caso di Lockbit appunto. E Lockbit stessa non è una gang criminale che va a hackerare le aziende e poi ne chiede il riscatto, ma di fatto è una specie di azienda, però nascosta, criminale, che ha creato questo servizio, che si chiama Lockbit, tra l'altro ne è appena uscita la versione 3.0, perché ci sono le versioni, ci sono le feature, ne è appena uscita la versione 3.0. Trovate sempre su Red Hot Cyber una analisi e un'intervista dove si spiega che cosa sono queste nuove feature, e insomma vendono questo servizio a degli altri gruppi, che chiamano appunto affiliati, che pagano una percentuale di quello che poi otterranno come riscatto dall'azienda e gli offrono i servizi che sono non solo il locker, diciamo il criptaggio dei dati, che poi vengono usati per chiedere riscatto, ma anche la piattaforma attraverso il quale chiedere questo riscatto, farsi comunicare, farsi pagare dall'azienda e con una serie di feature in più, come per esempio nelle ultime versioni, la possibilità per l'azienda attaccata di estendere il periodo possibile di pagamento, sempre dietro un ulteriore piccolo pagamento, oppure di richiedere la distruzione dei dati sfiltrati, o ancora di fare il download di questi dati. Insomma vedete che c'è una piattaforma che offre una serie di servizi. Tra l'altro c'è anche un programma di bug hunting, quindi se qualcuno trova un bug sulla piattaforma di Lockbit, ti pagano per averglielo segnalato. In questo giro, in questo contesto, ci sono anche degli altri piccoli gruppi o degli individui singoli che vanno effettivamente a scoprire le vulnerabilità di un'azienda, magari ne scoprono le password di accesso, magari usano del phishing per andare a scoprire questi dati di accesso, o magari fanno degli attacchi in cui riescono ad ottenere l'accesso a delle macchine o a intere porzioni di un'azienda attaccata, poi dopo vendono queste informazioni a chi poi si rivolge a Lockbit per ottenere tutto il pacchettone. Questo è il giro, capito? Quindi molte informazioni lette in giro sui giornali generalisti purtroppo sono un po' raffazzonate, non sono precise. Queste sono le informazioni più precise, che però non sono frutto naturalmente di un lavoro mio, è tutto o quasi frutto di Red Hot Cyber che vi linko e vi invito a seguire. Ho finito, forse a domani. Ciao!